L'Unione operativa da PSB ad Ariano dei referenti di diversi enti, non solo della provincia di Avellino, in particolare comuni, scuole ed ordini professionali, con il referente designato ai fini dell'attuazione del GDPR, la nuova normativa sulla protezione dei dati. Il DPO collabora in effetti con la pubblica amministrazione per quella che di fatto è un'interfaccia fra la pubblica amministrazione, il cittadino e anche il garante. Si interfaccia con la pubblica amministrazione per poter implementare il sistema del regolamento 679 con quelli che sono i regolamenti del Comune, quindi tutti quelli che sono i regolamenti della trasparenza e quant'altro che governano e disciplinano la pubblica amministrazione. Per gli enti è un fastidio questa normativa, però il cittadino sicuramente sarà più tutelato. Il cittadino si sentirà sicuramente più tutelato. Sapere che esiste un sistema che garantisce i dati dei cittadini, vengono garantiti appunto, è seriamente un buon viatico. È una grande soddisfazione per l'azienda in quanto per un argomento così delicato, appunto l'adeguamento al nuovo regolamento europeo del GDPR 2016-679, si sono affidati appunto a noi della PSB. Abbiamo intercettato e abbiamo creato quindi collaborazione, siamo quindi responsabili del processo di attuazione di questo adeguamento, un numero importante di comuni, di scuole, ordine dei medici della provincia di Avellino, comunità montana Ufita e così via. Quindi una responsabilità che ci gratifica e che oggi ha il suo primo step, il primo incontro di conoscenza, di pianificazione e di individuazione di quello che saranno gli step successivi di lavoro e abbiamo aperto un dibattito per cominciare a chiarire le idee a tutti i rappresentanti dei vari enti presenti oggi. Grazie a tutti.